Un anno di distanza d'arrogo che ha devastato un'ala della cavallerizza reale di Torino, le nostre telecamere sono entrate nel complesso Sabaudo, patrimonio dell'UNESCO, che aspetta ancora la sua rinascita. Samuel Nicola Fusca, Camilla Sandri, Claudio Adragna. Samuel, Camilla e Claudia fanno parte del collettivo di teatro-danza Stato Lento. Si sono conosciuti alla cavallerizza reale di Torino e sono una delle tante esperienze formatesi nello spazio del complesso architettonico seicentesco da quando un gruppo di cittadini l'ha occupato, nella primavera del 2014. Difficile immaginarlo oggi, ma più di tre secoli fa questa parte del polo reale accoglieva i fasti della vita di corte. Progettato dall'architetto di fiducia di Casa Savoia, Amedeo di Castellamonte, ha ospitato prima il maneggio e le scuderie, poi è stato utilizzato come ricovero dei mezzi dalla Polizia di Stato, quindi per gli appartamenti di operai e funzionari pubblici e le sale teatrali dello stabile di Torino. Fino al degrado di oggi. Nel 2007 il Comune ha acquisito il bene dal demanio per metterlo in vendita e a maggio l'Assemblea 14 e 45 ha occupato parte dell'edificio per cercare di tenerlo in vita e di riconsegnarlo alla sua funzione primaria, quella artistica, con performance, dibattiti, eventi, attività di ogni genere aperte anche alla gente del quartiere. Tutte le settimane l'Assemblea si riunisce per fare il punto e coordinare le iniziative future. Perché è stato importante mantenere aperta la Cavallerizza Reale in questi mesi? Questo è uno spazio bellissimo in centro a Torino che era stato completamente abbandonato dall'amministrazione. Il fatto che rimanga chiuso e non utilizzato ci sembrava un fatto grave perché sono spazi che la cittadinanza può occupare per proporre delle attività ed essere lui a scegliere che cosa fare nella sua città e non sempre delegare a qualcuno incaricato o eletto in ambigui modi che scelga sempre per lui quali sono le proposte culturali, quali sono le proposte politiche, come gli spazi vanno utilizzati, chi li deve utilizzare. Ma è proprio un posto in cui le persone decidono. Siamo organizzati con un'assemblea che si chiama Assemblea Cavallerizza 1445. Ci riuniamo periodicamente, più di una volta a settimana, per discutere come gestire questo spazio. Ed è aperto, è della libertà il nome e la parola che caratterizza questo posto. A un anno dall'incendio che ha devastato un'intera ala del complesso, rimasto senza un colpevole con l'indagine archiviata, sarà ancora l'Assemblea a tenere accesa una speranza per il futuro con Illuminiamo la Cavallerizza il 30 agosto dalle ore 21, sperando che la Cavallerizza, come la Fenice, rinasca dalle sue ceneri. Ricorderemo quella giornata, innanzitutto attraverso dei video che ricordano proprio la fiaccolata. Quindi sarà completamente riallestito l'intero luogo. Artisti saranno presenti e dal pomeriggio fino a sera, ma in particolar modo la sera stessa, lavoreremo per farlo rivivere, per ricordare quei momenti e per creare così anche un po' un confronto rispetto a quello che è successo anche nel Palazzo del Lavoro. Abbiamo cercato di ricordare a tutti ogni giorno che questo è un posto per la cittadinanza, dei cittadini e per la cittadinanza stessa. È un bene comune dell'UNESCO, ce lo dobbiamo ricordare, quindi è di tutti. E proprio attraverso, come diceva anche Samuel prima, sistemi partecipativi, noi facciamo in modo che sia di tutti e per tutti. che effetto ha fatto vedere un altro pezzo del bene comune di questa città, Palazzo del Lavoro, in fiamme? Sì, è un parallelismo alla fine, è successa la stessa identica cosa, non soltanto rispetto al ruogo in sé, ma anche rispetto ai futuri progetti che ci sono dietro a queste due strutture. Noi qui vogliamo altro, nel senso vorremmo un polo culturale di artisti. Non un polo culturale con l'etichetta del comune, il patrocino della regione, la fondazione che mette i soldi e decide di per sé un direttore artistico chi portare. L'interessante è il passo verso qualcosa che non esiste, è creare qualcosa che è i cittadini, le necessità dei cittadini, degli artisti che vivono la città, che hanno bisogno di nuovi spazi, che hanno bisogno di potersi esprimere liberamente. È anche uno spazio di formazione, nel senso che noi non sappiamo gestire uno spazio, ma è la città che si forma per poter fare qualcosa, essere in grado di autogestirsi, perché siamo abituati a essere gestiti dagli altri, mentre quello che stiamo imparando qui, con difficoltà, è ogni giorno riuscire ad autogestirsi e riprendersi quello che ci hanno tolto, che è la capacità... Occuparsi, nella sua etimologia, di prendersi cura di qualcosa, di prendersi cura di uno spazio e non di illegalità o appunto rompere dei confini, ma prendersi cura. di prendersi cura di uno spazio,